Territorio detto delle quattromiglia, passato dal banchiere genovese Centurione nel 1400, dominato fino al 1700 dell'Acquaviva d'Aragona di Conversano, ai baroni di Casamassima fino ai Caracciolo di Vietri, San Michele incanta per la sua semplicità che lei valso il titolo di borgo più bello d'Italia. È un momento veramente di gioia per San Michele perché si unisce anche a questo riconoscimento, in tanti altri riconoscimenti e quindi stiamo crescendo nell'attrattività e nell'offerta a livello turistico, quindi è un progetto che noi avevamo ben in mente e che oggi trova la giusta conclusione, in cui seppur ci dà tanta soddisfazione ma allo stesso tempo ci riempie di grosse responsabilità perché da oggi in poi dobbiamo ancora migliorare su tutta una serie di standard. Oltre alla zampina è diventato Presidio Slow Food la tipica fucaccia a livre di origine romana o forse ebraico-portugese, simbolo della civiltà contadina. Viene prima impastata con della farina zero del posto, che viene chiamata farina alla bianchetta, con lievito madre, sale e acqua. Si fa lievitare e poi si fanno i panetti, viene condita con olio extravergine, sempre del posto, origano, sale, viene arrotolata su se stessa e poi come un rotolo di zampina. La storia dice che era una focaccia che si portava in regalo alle suocere, però adesso si fa sempre, tutti i giorni.